Vi presento Dana, a quattro anni. È stata trovata da degli svizzeri che erano in Puglia in vacanza lungo la strada in condizioni veramente pietose. Infatti Dana era stata abbandonata perché malata di lesmaniosi ed inoltre era anche incinta. Questa malattia ha fatto sì che Dana ha perso la vista gradualmente. Un tempo era piena di croste, ora le cure l'hanno decisamente migliorata. Vedete ha un pelo bellissimo ed è affettuosissima. Vi darà tutto il suo amore. Se vi siete innamorati di questa meraviglia, color caffè latte, veniteci a trovare. La storia di Dana è davvero toccante. Questa dolce cagnolina ha vissuto tutte le esperienze più terribili che si possano immaginare. Ma nonostante il suo passato tragico ha dimostrato di avere una grande volontà di vivere, di ricevere e di donare amore. Dana è un esempio straordinario di come gli animali, nonostante le difficoltà e le disabilità in questo caso, abbiano un forte desiderio di connettersi con le persone, di cercare amore, di cercare una vita felice, una vita serena, quella a cui ogni cane ha diritto. Dana ha bisogno di una seconda possibilità, non fatele passare l'inverno in canile. Per adottarla chiamate al numero 334 1647 038. A presto!